Finalmente si riparte ed è l'occasione per farlo in modo nuovo. Noi ripartiamo da cinquecento e Panda Hybrid con filtri purificatori dell'aria e lampada a raggio UV che rimuove fino al novantanove per cento dei batteri. Gamma Hybrid con zero anticipo, zero rate fino al duemilaventuno e poi da quattro euro al giorno. Fiat riparte pensando all'ambiente, a te e alle tue risorse.